La dama torinese sorprende tutti con un annuncio molto importante che non lascia indifferenti nel pubblico né la storica opinionista. Le registrazioni del trono over di uomini e donne hanno mostrato finalmente che Gemma Gargani ha avuto la meglio su Tina Cipollari. Infatti la dama torinese è entrata in studio attirando su di sé molte critiche per il suo abbigliamento, immediatamente bocciato dalla storica opinionista del programma. Inoltre, poco dopo, le parole di Maria De Filippi mettono in agitazione Tina che fa un gesto incredibile e una dichiarazione che lascia tutti senza parole, riguardanti una presunta gravidanza della Gargani. Ecco i dettagli dell'accaduto e la verità dell'ex compagna di Giorgio Manetti. Prima parte. L'arrivo di Gemma Gargani. Nel talk show di Maria De Filippi se ne vedono e se ne sentono di tutti i colori, infatti anche in questo caso non sono mancate feroci critiche da parte di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Gargani, fin dal momento del suo ingresso in studio. Infatti l'opinionista ha immediatamente ammonito la dama sulla scelta del suo abbigliamento, sostenendo che non doveva indossare quel vestito perché è adatto solamente alle ragazzine e non certo a lei. Ovviamente Gemma non le ha mandate a dire Tina, poi Maria De Filippi chiede l'attenzione della Cipollari in quanto rivela che la Gargani deve fare un annuncio molto importante e a quel punto l'opinionista ha affermato. Per caso è incinta? Da qui è iniziata una serie di frecciatine, poi però Gemma ha spiegato che voleva comunicare a tutti di non voler avere più niente a che fare con Michele D'Ambra. Seconda parte. La dichiarazione della dama. Gemma poi prosegue dicendo di aver pensato a lungo alle parole che Marco Firpo le ha detto durante una conversazione telefonica, e proprio per questo motivo vorrebbe riepacificarsi e riprendere i rapporti con il cavaliere. Tina a questo punto non ha retto e ha lasciato lo studio dicendo che non poteva reggere ad una cosa del genere e che preferiva non assistere alla scena. A questo punto Marco Firpo viene chiamato in causa al centro dello studio e, una volta seduto di fronte a Gemma, gli dice chiaro e tondo che lui non è della stessa opinione perché le parole hanno un loro peso. E, dopo tutto quello che si sono detti, secondo lui un loro riavvicinamento è davvero impossibile. Che cosa accadrà adesso? Davvero la Gargani rinuncerà, oppure tornerà alla carica? Continuate a seguire gli aggiornamenti sul Tronover di Uomini e Donne per scoprire come si evolveranno le vicende della Dama Torinese.